Oggi, ultimo giorno di scuola, si è svolta una festa al parco di Vianas che ha un valore anche civico. Sono state infatti consegnate le chiavi del parco al gruppo di sette cittadini che, coordinato dal comitato di partecipazione Arco Centro, si è preso in carico l'onere della gestione della sua apertura al mattino e della sua chiusura alla sera. Un piccolo grande fatto di comunità che consentirà una gestione più adeguata e sicura del piccolo ma importante parco. Alla festa hanno partecipato i bambini degli elementari, mentre alle 17 si è svolta la cerimonia di consegna delle chiavi da parte del sindaco Betta. Per la prima volta che delle persone, dei liberi cittadini, si mettono insieme per gestire una cosa pubblica. Quindi aprire e chiudere il parco è importante anche da un punto di vista di sicurezza e di gestire meglio il parco che ci troviamo qui, che è un polmone verde, un polmone dove i nostri bambini possono giocare, possono stare tranquillamente insieme senza l'ansia dei genitori che devono tenerli sott'occhio. Il comitato di partecipazione è riuscito a coinvolgere anche la gente, i cittadini e questo è il luogo per queste cose qui. È molto importante perché a volte sembra che i cittadini parlino o parlino ma non riescono ad arrivare a dei risultati. Il comune, l'amministrazione comunale ha messo in piedi i comitati di partecipazione proprio come aggancio, come porta per portare problematiche che possono esserci nel nostro comune. Il comitato ha il compito di raccogliere queste istanze e di portarle all'amministrazione e cercare dove è possibile una soluzione concreta per il problema posto.